buongiorno amici torniamo su webinar di giuna intermettenza po di anni che non ci parlo perché dico anni ho cominciato non mi ricordo se due anni fa parlare di digiuno anno scorso scritto anche la guida più di 20 20 pagine su queste pdf che spiega che cos'è digiuno intermettenza lo seguo da più anni seguo digiuno intermettenza da 2016 2017 fammi riflettere più o meno perché ho cominciato a capire di digiuno intermettenza dai diversi americani che parlavano di questo digiuno intermettenza poi sono molto affascinata da walter longo che ha scritto mima digiuno veronesi parla di digiuni anche molte parlano perché il digiuno fa molto bene al corpo dal punto di vista di anti invecchiamento faccio digiuno intermettenza non per dimagrire lo faccio per rallentare il processo di invecchiamento nel mio corpo c'è stato anche uno studio scientifico su dei topolini di time restricted eating o meglio conosciuto come il 3 che ha vinto pure premio nobel perché ha parlato che quando si è messo questi roditori su adlib adlibitum potevano mangiare quando volevano e quelli che hanno mangiato in modo ristretto hanno visto che ha soppresso l'espressione di 57 geni di invecchiamento o legato all'invecchiamento o se vogliamo dire i marcatori markers dell'invecchiamento così è molto molto interessante molte persone stanno parlando di digiuno intermettenza ci sono anche tantissimi app per digiuno intermettenza che purtroppo mi dispiace ragazzi non serve un app per fare digiuno intermettenza assolutamente ogni tanto vedo che ci sono delle cose che studio sto studiando applico sulla mia vita vedo grandi risultati poi vedo che arriva la l'interesse commerciale su queste cose oggi stesso letto di una star di hollywood che ha detto lo suo segreto del bellezza che dorme 14 ore al giorno innanzitutto il corpo non è non necessita 14 ore al giorno 8 9 ore al giorno i bambini 9 10 ore al giorno neonato 10 ore 9 10 ore al giorno 7 8 posso fare anche 7 ore più una power panichelle che si chiama il sonno bifasico super intelligente per il corpo assolutamente ma poi ogni tanto vedi queste sparate ma voglio parlare così di questi guru questi sparata faccio 14 ore mio segreto di benessere non è anche quello perché abbiamo bisogno anche di consumare le calorie da svegli e noi siamo ritmi circa di anni abbiamo bisogno di vedere la luce solare e così vorrei un po sfattare la commercializzazione del digiuno intermettenza a tanti addirittura ho visto un'app che ha detto se vedi che digiuno intermettenza devi fare per la tua età e va e dice al certo punto c'è da scritto 24 0 che non mangia più cioè io scusami quando vedi tutte queste cose un po mi girano le balle scatole le scatole perché ogni ogni cosa può essere utilizzato in un modo benefico o malefico nel proprio corpo io sono una persona che propone sempre l'equilibrio perché propongo l'equilibrio perché è realistico è realistico ma anche le digiuno intermettenze deve essere realistico deve essere applicabile nostra vita applicabile nostra vita per il resto della vita è scientificamente provato chi mangia di meno e ingerisce meno calorie di più lungo questo è scientificamente comprovato e così importa meno quello che mangi di quando lo mangi da una parte e naturalmente se mangio digiuno intermettenza o in modo intermittente mangerò di meno perché togliendo un pasto e riducendo l'orario c'è una volta che ti abitui a digiuno intermettenza ti passa anche la fame e cioè io vado fino a mezzogiorno a volte vado anche fino alle due senza battere il ciglio non ho morse della fame posso sempre bere acqua tiepido questo fa benissimo al corpo caffè e tè senza zucchero ci sono anche pochi pochi grassi se uso l'olio mct il medium chain triglycerides che viene però diciamo estratto o dall'olio di cocco olio di palma aiuta a darmi energia ma senza farmi uscire dalle finestre di digiuno e a me dispiace anche un po' perché si chiama digiuno dovrebbe essere chiamare essere chiamato mangiare ad intermettenza perché si mangia non è un digiuno ad intermettenza diciamo fa male a non mangio più allora diventi anoressico per certi versi digiuno intermettenza è sconsigliata per le persone che hanno problemi di alimentazione bulimia anoressia queste cose perché può innescare di nuovo una sorta di ciclo se vogliamo dire nocivo perché una volta che comincio a fare digiuno passo da un 15 15 9 un 14 10 a piano piano io ho sentito addirittura una persona dice faccio un pasto al giorno che a quel punto stiamo parlando 23 1 non è salutare questo abbiamo bisogno durante le finestre di digiuno di mangiare le calorie necessarie per il benestare nel nostro corpo i grassi al corpo servono servono per la produzione ormonale servono per la pelle servono per per i nervi per il colesterolo aiuta con il sistema nervoso servono i zuccheri servono e dovrebbero costituire 60 70 per cento di quelle che mangiamo durante l'arco della giornata perché è un vero proprio fonte energetico per tutto il corpo incluso il cervello sempre quando parlo a volte vengo mal interpretato perché vedono gil cooper non mangia non è vero gil cooper è soltanto fissato con la dieta i per i per dietetico non è vero io sono una grandissima fautrice di quello che si chiama equilibrio è l'ecolibrio ci darà sempre quelle che serve per una strada di vita per essere delle vita cioè mi sveglio mi eleno sono molto attento a dormire molto attento anche al miei spazi adesso divento sempre più più protettiva adesso questi miei spazi ogni anno che passa divento sempre più protettiva dei miei spazi anche più protettiva dei miei recuperi sto prendendo molto più spazio per me è noto che sono anche più di produttivo da un'altra parte perché recuperando le le mie forze posso anche produrre di più produrre meglio però andiamo avanti con digiuno e intermettenza allora prima volta che ti approcci a digiuno e intermettenza che cos'è non è una dieta innanzitutto digiuno intermettenza fai caso che tu sei seguito da un nutrizionista ci prendi quello che ti dice il nutrizionista che è basato sulla tua fisicità sesso età livello di sport quadro clinico del diciamo delle vostre esame di sangue ci sono tante tante cose per esempio se tu sei un diabetico avrai bisogno di mangiare in modo diverso di una persona che non lo è e questo digiuno e intermettenza non è una dieta è una vera e propria finestra di nutrimento dove ti prenderai la tua nutrizione basata sulla tua persona dentro ok 13 11 14 10 16 8 5 2 allora questi sono tutte le parole le numeri che girano intorno digiuno e intermettenza e qualche fai faccio 16 8 faccio 14 10 di solito sentirei 16 8 quasi tutti quanti dicono 16 8 che vuol dire vuol dire che il numero più grande o 13 14 16 in questo caso e le finestre di digiuno dove dove possiamo aggiungere l'ore del sonno così a queste 16 ore meno 8 ok sono 8 ore di digiuno reali magari 3 4 ore dopo cena e 3 4 ore della mattina e mi porto alla mia finestra perché aggiungo 8 ore nel letto e così molto molto tollerabile è semplicemente una questione di tardare le tue tardare la tua prima collezione provare di anticipare leggermente la tua cena e non mangiare dopo la cena questo è il modo migliore per fare digiuno intermettenza e che cosa succede quando suddivido questi due momenti della mia giornata mio corpo è più propensa di rigenerarsi e andare in autofagia autofagia è una vera e propria pulizia di tutte le cellule che sono invecchiate senescent che vuol dire addormentate o nocivo per il corpo se noi siamo sempre in digestione e sempre in produzione di insulina nostro corpo non da non va in autofagia e abbiamo un accumulo di detriti come se non pulissi mai la casa certo punto non entri più in casa perché c'è c'è spazzatura dappertutto così l'apofagia molto benefica per proteggere il cervello per proteggere il metabolismo per ridurre l'infiammazione nel corpo il vero digiuno intermettenza parte da 12 12 12 ore che mangio 12 ore che non mangio per esempio finisco mangiare la cena alle 8 di sera non mangio fino alle 8 di mattina che è totalmente infattibile a maggiorare alla maggior diciamo casi 9 9 della mattina devi semplicemente svegliare bere una tisana bere un caffè senza zucchero arrivare alle 9 di mattina per fare un primo boccone calorico ok zuccheri proteine ci portano fuori la il digiuno così mini digiuno io lo trovo molto più difficile perché 5 2 vuol dire 5 giorni alla settimana mangio normale quando voglio senza le finestre e due giorni faccio un mini digiuno dove io riduco la mia introito calorica 500 600 calorie ma quella una dieta e io rischio io penso questo il mio personale opinione psicologico sul digiuno che se io penso alla dieta io innesco un pensiero nel mio cervello che io sono a dieta se sono a dieta e il mio corpo comincia ad evitare che cosa evita di farmi dimagrire perché mio corpo se pensa che sono in carestia cerca cibo mi riduce il metabolismo e provo di trattenere i grassi per salvarmi dal carestia giusto così se io faccio una mini digiuno io penso che tu mentalmente psicologicamente lo vivrai come una dieta per me le diete non funziona perché è scientificamente provato che chi sta sempre a dieta non dimagrisce una dieta finisce prima o poi non la posso vivere sempre a dieta mai mangiando più un biscotto una torta un gelato una pizza bere l'alcol perché la di perché sono a dieta non fa non mangio niente di calorico però prima metabolismo si ridurrà perché mentre penso alla dieta così riduccio riduco il mio metabolismo aumento la fame e trattengo i grassi e poi non puoi rinunciare tutta la vita dei cibi che preferisci non non è vita il corpo ha bisogno di cibo di cibo e vivere a stenti secondo me è solo una sofferenza qual è la differenza tra una dieta e un digiuno allora con le diete devo contare le calorie mentre con digiuno controllo l'orario non non devo controllare la quantità di calorie che mangio durante un digiuno anche se ovviamente il mio consiglio è mangiare più frutta e verdure cucinare in modo leggero con l'aria caldo tipo air fryer al forno proviamo di non brustolire il cibo per creare ages anche se la crostecina è super 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 gustoso non fa molto bene per il corpo però la verità che se mangio un biscotto dentro il digiuno fa veramente poco per il corpo hanno fatto durante questo studio scientifico sui topolini hanno visto che sia con la dieta o il nutrimento per questi topolini sano sia con il nutrimento si chiama western diet che vuol dire ricco di grassi e satori cibo nocivo come il fast food i topolini che erano a digiuno diciamo nella finestra ristretta di tempo di mangiare si sono dimagriti così non è la calorie che cambia ma è la quantità del tempo pesare alimenti con le diete siamo sempre pesare a leggere un manuale di quanto come quando come mangiare non pesiamo alimenti in digiuno mangio mangio dalle mezzogiorno alle otto mangio e ovviamente mangio ascoltando il corpo mangio quando ho fame mangio più variata possibile di questo non ci penso rinunciare a tutti i cibi preferiti c'è proprio diete ciaone qualunque cosa che ami viene salutato tranne quel magari quel pasto libero che è una tortura per quanto mi riguarda mangiare quelle che preferisco entro certe ore e si chiama front loading in questo prossimo a diciamo andate di webinar vi comincio a spiegare come e quando mangiare e con il crono nutrizione ma non oggi fissare il cibo una dieta ti fa fissare il cibo se sei mai stato a dieta lo sai meglio di me che prima poi ti trovi di fronte al frigorifero frigorifero spalancato è come se fosse posseduto da un orso dentro la tua pancia mangi qualsiasi cosa e non solo mangi qualsiasi cosa mangi cose che tu non avresti mangiato fuori dalla dieta per esempio cominci a trovarti maionese sulla nutella su un pezzo di pane con il salame e non è che non lo spieghi perché ma lo spiego io perché perché il cervello dice sei a dieta sei in carestia io ti faccio consumare calorie di qualsiasi entità di grassi e sali e tutto quello che è nocivo per il corpo per rimettere i grassi e per trattenere il peso e per trattenere tutto quello che ci serve per per un per la carestia per sopravvivere invece con il cibo anziché fissare noi semplicemente gestiamo diversamente la nostra giornata ok mangia un certo punto amen e vivere a stenti la dieta vive a stenti digiuno una volta che io personalmente lo faccio tutti i giorni ogni tanto esco dal digiuno perché fa bene anche ogni tanto uscire dal digiuno quando c'è un evento o qualcosa che mi richiede un viaggio più attenzione magari mangio prima però il digiuno è una stile di vita non non ha un inizio non ha una fine il problema del ciclo della dieta diet cycle e che per quale dicono che è scientificamente provato che le persone che stanno sempre a dieta ingrassano perché iniziano la dieta e c'è una restrizione restrizione mentale dovete sempre capire che il cervello attrai e si pissa su quella che tu fissi e facci casa quando fai la dieta cominci a avere quel fogliettino che ti è scritto il nutrizionista o un libro quello che hai letto e cominci a dire a che prima creazione dove fate ben scottati i quattro cucchiai di yogurt ma yogurt greco è un'altra cosa finito la prima collezione riguardi il foglio cercando di capire quale che puoi mangiare a pranzo non è vero ok questa risessione mentalmente ti porta una deprivazione e innesca la bramosia la bramosia è innescato da questo voglio del tuo cervello di non morire di fame affamato affamato cedere alle tentazioni come c'è acqua al punto la bramosia ti fa cedere alle tentazioni quasi senza controllo alcuna alcuno alcune ti trovi veramente di svuotare il frigorifero la camusa in casa e poi senza di colpa perché sei a dieta o ce l'ho rovinato la dieta io ho visto anche tantissime persone con questo senso di colpa a una festa a mangiare un biscotto e dicono a perché ho mangiato un biscotto mi sono ceduto la tentazione ho rovinato le diete ergo oggi posso mangiare tutto quelle che voglio e continuano la giornata per tutta la giornata di strafogarsi dicendo da domani ricomincio la dieta e diventa una cosa che ragazzi non funziona se funzionasse se funzionasse la dieta avresti fatto una dieta per tutta la vita e non ti serve mai più di tornare a dieta per avere la forma fisica che vuoi ma se sei fuori forma o c'hai quei tre chili o quel quattro chili o quel cinque chili in più ovviamente la dieta non è funzionato digiuno è molto meglio perché digiuno ti aiuta a trovare il peso che state cercando con più facilità dna non saranno antenati allora come siamo programmati le dna non si cambia in una generazione la dna cambia in millenni millenni che stiamo parlando di darwin grandi darwin noi eravamo cacciatori e raccogliatori così il nostro corpo abituato di tanta energia spesa e energia assorbito quando eravamo senza fissa dimora senza riscaldamenti senza piumini e quant'altro e senza un senza tanto cibo a disposizione cioè i nostri antenati erano costretti di cacciare e per cacciare non è detto a che cacciavano e in tutte le stagioni non era detto che potevano trovare il cibo né sugli alberi né nei campi perché in inverno ovviamente è più difficile così abbiamo questo rest in digest fight or flight perché il nostro corpo è molto bianco e nero ecco perché piace il nostro corpo digiuno finestre di mangiare finestre di non mangiare perché il nostro corpo dice ok adesso ripariamoci rest in digest rest in digest rest in digest vuol dire riposare digerire dove io sto e assoppito fermo non uso l'energia per muovere per cacciare uso l'energia per digerire dedicando alle viscere dedicando poi tra l'altro al sistema immunitario perché 70 per cento del nostro gold gastro associato dell'empatica tissue vive risiede nelle viscere e le viscere hanno bisogno di un flusso sanguigno per nutrirli ossigenarli porta e portare via i metaboliti o diciamo i detriti metabolici del processi metabolici e deve portare ossigeno e tutto quello che serve per le viscere oggi come oggi siamo sempre in ansia sempre fight or flight e questo è tutto un'altra questione sulla microbioma sulla porosità intestinale che non vado a spiegare in questo momento ma noi eravamo programmati molto semplicemente mi sto muovendo cacciando o sto digerendo o sto riposando digiuno intermettenza o sto mangiando o non sto mangiando ed è molto importante per il corpo di fare la differenza perché la dieta uguale al cervello a carestia e ricorda anche tutta la legge della trazione la legge della positività pensiero positivo allunga i telomeri e pensiero positivo allunga i telomeri che sono legati alle vostre cromosomi che sono legato alla vostra longevità pessimismo idem ti accorce telomeri questo vuol dire che grazie all'epigenetica che un pensiero ha un'azione fisiologica sul corpo pensiero che poi possiamo andare c'è il corpo talmente interessante noi abbiamo concio su concio abbiamo fight or flight abbiamo rest and digest abbiamo ma sono sempre questo o o cioè odio amore ossicettina o adrenalina cioè abbiamo c'è tutto il nostro corpo parla in questo di cromiano o bianco o nero e così la dieta se io comincio a pensare alla dieta io creerò una risposta più genetica di pensiero è di sensazioni che interagiscono con l'espressione genetica delle mie cellule a portarmi in che cosa un cambiamento metabolico perché se ti so infatti quando io dico che volete fare di giugno intermettenza proprio di volare sotto radar senza fissarti cominci piano piano 12 12 perché se io fisso dico a tutti quanto sto facendo di giugno intermettenza guarda sto facendo di giugno intermettenza che ora sono ritorniamo in una stato di allarme del cervello cose che non vogliamo fare applicate tutto quello che vi dico quando vi dico facciamo cinque minuti per sette giorni non è perché io voglio o penso che cinque minuti di cambierà la vita ma non sono i cinque minuti che mi servono per dal punto di vista metabolico ma per il pensiero per l'abitudine per le stile di vita per lo stile di vita vita io ho bisogno di applicare tutti questi concetti al tuo cervello dove lui sta la felice contento non si rende conto che gli stai fregando nel senso positivo fregando perché gli stai insegnando di mangiare meglio metà e avere un metabolismo più rapido più veloce un pensiero più optimistica per vivere meglio così se io fisso la dieta mio cervello fisso la carestia appetito aumentato metabolismo basale ridotto tanto e cioè quasi a 25 per cento cioè nel senso che anziché anche di più 30 per cento anziché bruciare 1200 chilocalorie al giorno perché sto bene corpo dice 800 chilocalorie al giorno così il giorno e grassi corporee vengono trattenuti perché sono un fonte energetica una sorta di batteria allora se io ricomincio a mangiare alla fine delle diete perché mettete il peso con gli interessi perché il metabolismo soppresso è ridotto così io quando comincio a mangiare normale non sto più bruciando 1200 chilocalorie al giorno per sopravvivere ma 800 queste sono 400 chilocalorie che sono ridotto che non sto bruciando in dieci giorni sono 4000 calorie in venti giorni sono 8000 calorie quello un chilo di grasso perché un chilo di grasso più o meno sono 7000 chilocalorie capisci come funziona il vostro corpo così digiuna nettamente gestisce i ritmi circadiani migliora la funzionalità del corpo ritmi circadiani sono legati alle zeitgeiber che sono time keepers che vuol dire orologi interni basate innanzitutto su luce buio la prima cosa luce buio chiaro e scuro molto importante di prendere luce solare durante l'arco della giornata però poi c'è un altro concetto ancora però un altro modo per gestire i ritmi circadiani perché abbiamo ritmi circadiani che sono innanzitutto sono veglia noi siamo diurni noi siamo viviamo di giorno infatti quando c'è la luce ci svegliamo ci sono animali notturni che sono molto molto al riposo di giorno e si muovono di notte tipo i tipi strelli tipi i gufi tipo certi animali proprio notturni e fanno esattamente la posto i topolini sono notturni per esempio dormono più di giorno e le cose interessanti che oltre la luce e buio che interagisce con il nostro nucleo sovracchismatico abbiamo digiuno intermettenza che può interagire con le nostre cellule per la produzione ormonale durante l'arco della giornata che andremo con questi webinar a capire al meglio digiuno intermettenza gestisce i ritmi circadiani e migliori la funzionalità del corpo la crononutrizione ha vinto la premia novia nel 2017 jeffrey c hall e michael robash e michael young che sono americani e le molecole che possono regolare assieme la cromo circadiani con l'orologio generale che governa il ritmo sono veglia sovracchismatico il secondo centro di comando si chiama efeo food in trainable oscillators che vengono influenzate dentro il tuo alimentare ok questi zeitgeiber time keepers ok cromo circadiani non è cromo scusami cromo circadiano e crono circadiano cromo circadiano è legato al colore kelvin delle luce solare che la mattina è blu e mezzogiorno bianco è più ambrato in pomeriggio quello cromo circadiano legato alla nostra sovracchismatico questo nucleo legato al primo orologio del nostro corpo poi abbiamo il secondo centro di comando che siamo feo food in trainable oscillators in treno vuol dire che regolizza ok stabilizza ecco perché dicono è molto positivo al corpo di mangiare lo stesso ora tutti i giorni e dormire la stessa ora tutti i giorni queste sono cose il tuo corpo tuo corpo ama i ritmi che siano circadiani che siano quando mangio che siano quando dormo certe cose cioè tuo corpo ama la costanza così io dovrei costantemente mangiare la stessa ora costantemente andare a letto alla stessa ora e costantemente se vuoi vivere al massimo e così in questo webinar dedicato dice un'intermettenza voglio spiegarvi di che cosa si tratta perché così fondamentale per vostro corpo e come applicare la vostra vita e cominciamo oggi a spiegare dice un'intermettenza la prima cosa oggi se volete provare subito di entrare in digiuno e intermettenza notate l'ultima ora che voi mangiate ultima ora che passa un boccone di calorie per la bocca o zucchero e proteine grassi sono un po meno importanti ma comunque troppo calorie no dopo cena non mangiare provi di andare a letto già digiunato di almeno due ore così finisco a mangiare otto e mezza vado a letto dieci e mezza non mangio ancora finestra ma se finisco a mangiare le otto e mezza per fare il tuo primo approccio al ritmi circadiani e al primo approccio a digiuno intermettenza comincio a mangiare la prima collezione giorno seguente alle otto e mezza che cose ci manda fuori digiuno zuccheri e proteine in particolare la mattina se voglio fare un volte più coffee che è caffè mct o il olio di mct frullato lo posso fare la mattina che mi dà tanta energia molto molto interessante è molto bello anche per il cervello molto bene per il sistema nervoso lo spiegheremo in un altro momento pochi pochi grassi possono aiutarci anche se abbiamo un problema di acido nello stomaco se io sono una persona che ha acidosi la mattina perché sto facendo digiuno mangiate due tre noccio noci o mandorle perché ti può aiutare non uscire dal digiuno intermettenza ma ti poi aiuta lo stomaco a non avere fastidio specialmente se per gli integratori se vi piacciono queste come si chiama questi webinar fatemelo sapere scrivetemi o su form o sotto questo posto dove volete fatemi sapere come va e ripartiamo con digiuno intermettenza che durante le festività secondo me molto molto interessante specialmente perché mangiamo di più ci troviamo un po' ingolfato e vogliamo subito tornare in forma o rimanere in forma e digiuno intermettenza un ottimo ottimo coado avanti per fare tutto ciò vi auguro una giornata spettacolare e ci vediamo la prossima webinar insieme